Il Presidente del Consiglio regionale ha visitato all'Aquila la mostra antologica di Vincenzo Bonanni in corso di svolgimento sino al 4 novembre nello splendido restaurato Palazzo Picalfieri. Di Pancrazio ha apprezzato le tele di Bonanni, congratulandosi con l'artista per la qualità della pittura e passione che trasmettono, oltre alla magnificenza del prestigioso Palazzo Aquilano. Questi quadri esposti oggi in un palazzo non solo storico, ma di primaria importanza per la città dell'Aquila, per l'intero Abruzzo. Arte che è rappresentata dal Palazzo Picalfieri, restituito alla collettività della città dell'Aquila. Si somma l'arte di questa mostra bellissima, di questo artista particolare che so, ha esposto anche all'indomani del sisma del 2009 nelle aule e nelle sale del Consiglio regionale e poi ha ripetuto mostre anche nel 2012 qui nella città dell'Aquila. Quindi ritengo che non solo c'è valore in questo palazzo restituito alla città, ma c'è valore aggiunto per questa bellissima mostra che viene esposta in questo periodo. Bonanni nasce all'Aquila nel 1978 e dopo la maturità classica si laurea presso l'Università La Sapienza di Roma in Sociologia con una tesi sulla Beat Generation. Lo studio del fenomeno culturale della ribellione, intesa come anticonformismo o meglio non conformismo, lo affiancherà nell'esigenza di sviluppare la propria percezione ed elaborazione di arte visiva. Dopo anni di sperimentazione a tutto campo di varie tecniche, quale la pittura, collage, installazione, fotografia, parola scritta, che si fa immagine, attraverso una lezione dada e pop, attualizzata e incardinata su fenomeni sociali della contemporaneità, Bonanni fa il suo esordio a Roma con la mostra personale dal titolo Rebel Rebel. Tornando all'Aquila nel 2009 con la mostra personale intitolata Kiri Eleison, tenuta proprio a Palazzo dell'emiciclo sei mesi dopo il sisma. Ho iniziato a disegnare proprio nelle sale qui sotto dove c'era la libreria Colacchi e poi sì, ho fatto il mio percorso di studi e alla fine sai quando non puoi fare altro che quello che sei, decidi di farlo nella vita. È un onore anche per la città dell'Aquila, credo, averti ospite con questo impegno visivo che nasce essenzialmente, pittoricamente parlando, dopo il terremoto del 2009, per quanto riguarda almeno l'ambiente che stiamo vivendo in questo momento. Certo, qui ci troviamo in una delle sale che abbracciano e che accolgono le opere tratte da Kiri Eleison, che fu questo progetto che io portai, no, creai proprio per l'Aquila e poi fu proposto ad ottobre del 2009, quindi a soli sei mesi dal terremoto, in uno degli unici spazi, che era lo spazio dell'emiciclo, la parte quella degli uffici, che era l'unico agibile e quindi proposi questo lavoro e oggi questa è un'occasione anche per rivedere quel tipo di lavori.